E ciao ragazzi, qui è Sabit e benvenuti in questa top 10 dei miei videogiochi preferiti per Playstation 3 Allora ragazzi, prima di iniziare, ammirate le mie figure a tema Dragon Ball Solo un mi piace per loro, solo per loro due e iniziamo Questo è un vlog, una top 10 e vlog no face In che senso no face? Nel senso che non mi faccio vedere di faccia Allora, cominciamo con la decima posizione ragazzi In decima posizione troviamo questo qua, che non è il mio preferito ma che mi è piaciuto Call of Duty World at War La guerra come non l'avevi mai vista, affronta tutta la seconda guerra mondiale nei suoi ultimi giorni Ragazzi, in fatto di trama è spettacolare, ho avuto il modo di rigiocare, strarigiocarci Ma è bello, mi è piaciuto, mi è piaciuto Davvero, e mi è solo piaciuto Non è uno dei miei preferiti della Playstation 3 Ma comunque lo metto in questa top perché è bello comunque E mi è piaciuto Andiamo con la nona, con la nona posizione In nona posizione un altro code, ovvero Call of Duty Black Ops Call of Duty Black Ops, come tutti ben ben sapete, ha fatto la storia Ha fatto la storia questo videogioco Torna alla serie più ventuta di tutti i tempi su Playstation 3 Ancora una volta Call of Duty è pronto a stupire milioni di fan Sia con la modalità campagna, multigiocatore e zombie Raga, è spettacolare, davvero è stato questo qua anche uno dei miei primissimi giochi per Playstation 3 Davvero, bellissimo, mi è piaciuto Mi è piaciuto in fatto di storia, è bellissimo Non penso di farvi una serie perché è proprio difficilissimo portare una serie su un code Però è bello Andiamo con l'ottava posizione In ottava posizione troviamo un videogioco che mi è piaciuto Ovvero, il videogioco dei Simpsons I Simpsons, il videogioco Quando siamo i panni dei Simpsons che sono costretti a scappare in questo purgatorio dei videogiochi Come posso dirvi Mi è piaciuto perché è un platform semplice Molto ma molto semplice I tasti sono semplici però in fatto di trama mi è piaciuto Pure quest'ottava posizione è andata bene E vi dico proprio che mi ha saputo intrattenere Come posso dirvi, il gioco presenta anche delle sequenze a cartone animato Dei Simpsons Andiamo con la settima posizione ragazzi Settima posizione carissimi E qui troviamo Dragon Ball Ovvero Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi Ragazzi è stato il mio terzo videogioco per PlayStation 3 Mamma mia Quanti ricordi, quanti ricordi Avevo quanti ricordi Libera il Super Saiyan Kentei E io l'ho liberato Perché ho giocato sia la modalità storia Che la modalità multiplayer E la modalità eroe Però In fatto di storia è troppo bello Perché ci sono le boss fight Un po' più diverso rispetto a un semplice gioco di Dragon Ball Possiamo Toccare Hildegrand Janemba E così via Per percorrere tutto l'arco narrativo Fino ad arrivare a Gogeta Super Saiyan di quarto livello Che vi dico qua dentro È spettacolare ragazzi E questo Era la settima posizione Con la sesta posizione Invece troviamo un altro Dragon Ball Che però È stato rimasterizzato Dalla PlayStation 2 Alla PlayStation 3 Ovvero Ve lo faccio vedere Tutta la collection Perché ho solo una collection Dragon Ball Z Budokai HD Collection Che racchiude Budokai 1 E Budokai 3 Noi ragazzi ci soffermeremo molto Sul Budokai 3 Il Budokai 3 È stato Come posso dirvi Uno dei miei Dei primissimi Videogiochi Della PlayStation 2 Poi io L'ho rigiocato Ho quasi tutto Sbloccato I personaggi E vi posso dire Che è spettacolare Questo gioco Se devo consigliare In molti Camino Dragon Ball Questo qua Per PlayStation 3 Lo dovete avere Che poi La cosa più bella Ragazzi L'ho comprato Ancora prima Che io compravo Da GameStop Non so Se rendo l'idea Andiamo ragazzi Con la quarta Posizione Un altro videogioco Della PlayStation 2 Rimasterizzato Ovvero Ragazzi Eccolo qua Non poteva mancare Uno dei platform A 100% Che ho amato Ovvero L'era glaciale 3 L'alba Dei dinosauri Sopravvivi Nel mondo Dei dinosauri Unisci Dall'impradonabile Branco Di amici Dell'età Della pietra Nell'era glaciale Per affrontare La loro Avventura Più emozionante Cimentati In una missione Di salvataggio Fra i ghiacci Che si sciolgono Fino ad addentrarti Nel misterioso Mondo Dei dinosauri Ragazzi Che vi parla Fa Questo Questo sfido Chiunque Che ha avuto La playstation 2 A non avere Questo gioco Sfido chiunque Perché questo qua È andato Veramente molto Ma molto di moda E come vi posso dire Io conosco Tutto questo gioco A memoria So dove Si devono prendere I cristalli Ragazzi Questo qua È il platform 100% Dovrebbe copiare Un po' Jack and Dexter Per esserci Più o meno Capiti Copia lo stile Di Jack and Dexter Però Ci sono alcuni Rivelli 2D Che è veramente Spettacolare La storia Ripercorre Il film Dell'era Glaciale 3 Ma vi dico Raga Recuperatelo Se davvero Volete Ritornare A essere Come si dice Pure bambini Ora Ragazzi Cominciamo Con la Quarta Posizione In quarta Posizione Il gioco Non che è stato Forse Il secondo Videogioco Della playstation 3 Che ho avuto Ovvero Eccolo qua Il seguito Di Mafia The City Of Lo Steveno Mero Mafia 2 Ragazzi Mafia 2 Mi è piaciuto Molto Per la trama Per la trama Ma soprattutto Per le armi Perché io Quando ero piccolo Andavo molto A caccia Di armi Vito Vito Scalette È un uomo Che porta Sempre A termine Un lavoro E si sta Facendo un nome Sulle strade Di Empire Bay Insieme Al suo Amico Giù Il loro Scopo È di dimostrare Ai boss Della mafia Il proprio Valore Scalando Rapidamente La gretta Dell'organizzazione Criminale Ma Ricordatevi Questo Ragazzi La vita Di un mafioso Non è tutta Rosa e fiori Su questo Si Vedete Infatti Loro due Che cose Impugnano Il Thompson L'ho comprato Perché È stato proprio Il mio primissimo Io all'epoca Andavo a caccia Del padrino Mafia 2 Che poi È diventato Anche a far parte Dei miei preferiti Ma questo qua Ragazzi Anche se Parlando con molti Non è stato Un bellissimo Mafia Per me Rimarrà bello Perché Proprio perché Ha saputo Come posso dirvi Darmi Delle emozioni Questo gioco Eug Lo so Ecom Ok ragazzi Siamo arrivati Al gradino Del podio Ovvero In terza posizione Troviamo Un altro Videogioco Sempre tra i miei Primissimi Proprio Ovvero Ragazzi Che veramente Mi è piaciuto Io per sbloccarmi Le armi È stato un casino Ovvero Il padrino 2 Il padrino 2 Ragazzi Sfido Chiunque di voi A non avercelo Perché Proprio È famoso Questo gioco Agisci come Un picciotto E pensa Come un don Agisci come Un mafioso E pensa Come un padrino Davvero Vi invito A recuperarlo Ma ora Penso che sarà Difficile Perché oramai La EA Non è che produce Più questi vecchi Videogiochi Il padrino Il padrino 2 Mi ha Come il padrino 2 Ha saputo darmi Anche delle emozioni Come il padrino Il primo padrino Su playstation 2 E anche il Dead Ons Edition Mi hanno saputo dare Delle emozioni Da ogni punto di vista Però ragazzi Questo qua L'avevo pure rotto L'avevo rotto E Pregavo tanto A mia madre Di ricomprarmelo Infatti Eccola qua Questo ce l'ho Ce l'ho Sienno Questo gioco qua Ce l'ho Sienno Da ben 12 anni Ce l'ho Ora ce ne ho 21 Fatevi il calcolo Allora Seconda posizione Il gioco Della playstation 2 Che davvero Mi ha dato Delle soddisfazioni E che è uno Dei miei preferiti Della playstation 3 Eccolo qua ragazzi Madagascar 2 Eccolo qua Madagascar 2 E ragazzi Stupendo gioco Cazzo Invido tanto Invido tanto Alien Perché lui Ha il primissimo Madagascar Ma anche il 2 Il 2 ragazzi Mi ha saputo dare Delle grandi emozioni La storia Ripercorre il film Di Madagascar 2 Sei pronto A tuffarti Nell'avventura Selvaggia Unisciti All'allegra Brigata In una nuova Avventura Che ti accompagnerà Attraverso il film Madagascar 2 E oltre Infatti Si E oltre Perché io ragazzi Conosco praticamente Qualsiasi cosa All'interno di sto gioco Conosco tutto A memoria E l'ho messo In seconda posizione Proprio Perché Mi ha dato Delle emozioni Su PlayStation 3 Davvero Ve lo giuro Per quanto potete Essere voi iscritti Bene ragazzi Ora Per la PlayStation 2 Ho avuto un problema Invece Per PlayStation 2 Ho avuto un problema Ma invece Stavolta per PlayStation 3 È stata una cazzata Perché ragazzi La prima posizione La primissima posizione Che si aggiudica Il podio Ragazzi C'è di nuovo Lui Ovvero Ragazzi Il padrino Dead Ons Edition Benvenuto nella famiglia Sfrutta il controllo Della Black Hand Come non prima d'ora Grazie al controller Wireless Nuove missioni Base e famiglia Centri nemmi e minigiochi Tuttavia Riporcorriamo anche Dietro le quinte Il famoso capolavoro Di Francis Ford Coppola Ragazzi Anche per PlayStation 2 Questo qua Per PlayStation 3 Era questo Che io cercavo Io questo Cercavo da anni E nel lontano 2015 Arriva un mio amico Che mi dice Sabì Eccolo qua Il padrino Dead Ons Dice Ma raga Io ho ancora Il primo slot Salvataggio Che risale Al 2015 Ma raga Voi dovete capire Io questo Come ho sudato Per il padrino Dead Ons Dicono Quando ho sudato Ma si merita La prima posizione Naturalmente 10 su 10 Va bene Ragazzi Io penso Che il video La possiamo pure Chiudere qua Questa è tutta La mia Collezione Dal primissimo All'ultimo Ok ragazzi Ditemi Ditemi sotto giù Nei commenti Tutto quello Che volete Ve l'ho detto Questi sono i miei preferiti Tra quelli che mi sono piaciuti E quelli che sono i miei preferiti Quindi ragazzi Vi invito a lasciarmi un bel mi piace Un bel mi piace Anche Naturalmente Per le figure Di Dragon Ball E ma anche Per i videogiochi Che mi hanno accompagnato In questa grande avventura Della Playstation 3 Quindi vi invito a lasciarmi un bel mi piace Un commento Iscrivetevi al canale Qua da Sabit è tutto E noi ci vediamo Al prossimo video